Bentornati in questo settimo episodio Allora, l'altra volta eravamo rimasti che stavamo entrando nel villaggio ed eccoci qua Oh, you smell good Good woman, good smell, oh yeah No one ever comes here Quit standing around and come on in Guys, we have another weirdo What? You guys are here too? You wait outside So, you've met Filio He's an odd duck, huh? Odd enough to get tossed out of the village anyway And you're not? Nope, not me I left by choice Can't stand to be around them old-fashioned fogies I go to all the trouble of inventing for them And all they say is, no thanks Inventing what? This What happened? Is he dead? Unbelievable Just kidding, folks Not funny, so not funny Behold the power of my invention I call it a bomb It can blast even the hardest things to bits Oh yeah Catch! Put that invention of mine to good use now Well, guess you guys better be on your way I've got to take care of these wounds See you later I've got a bomb Oh, hey You're going to Prokakwa village, right? I've got a message for the elder Telling Dario said How long you're going to be set in your ways you will, loon What this planet needs is progress Oh yeah Got that? Ok, solo un po' fuori di testa, dai It's so humid around here Ok Ah, ecco We'll figure things out once we find the village Ok Un giglione, ah, ben, da di che Allora, mi sa che dobbiamo tornare indietro Non vedo altre strade C'è, direi proprio di c'è You really think those Burkakwans will let us in? So, where is this Burkakwa village? Ok Ok Quindi Siamo arrivati da un altro che è stato esiliato dai Burkakwa per le sue invenzioni Ok E Ci stiamo dirigendo al villaggio Dove forse finalmente riusciremo a trovare Ormai non riesco a passare Ma C'è qualcosa che non va Ok Ah giusto, potrei usare Ah giusto, per usarle Eh Eh Eh, era tipo Ma C'è com'è Eh, non riesco a usarle Siamo troppo Non va bene contro questi nemici Devo usarla contro qualcuno di terrestre Allora Allora mettiamo tutto che abbiamo in questo Sempre Mimic No Allora me la sono dimenticata Bracciale d'argento Ok Oh, vivendo in la giungla Non so se fosse la vita Oh, eccole lì Oh, le Ok Ci mette vent'anni a prendere ma Vabbè Ah, ok Ho capito Eh, vabbè È troppo difficile Vabbè Mi dovrò allenare a fare il colpo infuocato Ma Ci proveremo Wow Questa strada è così differente da Rosa Speriamo se la strada è giusta Io ti prenderò Oh, la strada è giusta Raffa 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 Ok Sì Non c'è altra scelta che ridurlo in briciole Che non ci voglia per caso la bomba che ci ha appena dato il nostro amico Ma tu guarda che fatidica coincidenza No aspetta ho sbagliato strada Molto bene Non benissimo Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Direi che ci stanno preparando per una bella battaglia Nel scorso episodio ci hanno dato un sacco di nuovi potenziamenti per i nostri personaggi O che credevano che questa giungla fosse così difficile Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Anche questo credo che per l'Eureka sia molto positivo Allora di là No vi facciamo forzire Perfetto Tricura Per niente male Potremmo decidere di fare subito le strade alternative E direi che facciamo così E puoi andare avanti con la storia Ok Sono questi Uh Dai salta Ah previso Ok 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 Storiamo un po' di roba Ahia Ok Dai su Bisco la giocattola Maledetta lei che non spara Oh Più uno di tuono Perfetto Per la nostra spada E anche le altre spade E anche le armi degli altri combattenti Sono potenziati Molto bene Adesso Sfida Vinci usando solo Jaster La vedo dura ma Intanto pensiamo a non morire Basta Mi sarebbe già qualcosa Perfetto Vai non fa niente Sfida persa Punto di salvataggio Ok C'è qualcosa Con questo planet Che non mi piace Oh Questo è bello Ok Questo direi che Più o meno Direi che Che è il primo principale Il cristallo di neve Molto bene Allora Vediamo di ricordarci Qual è la nostra Via d'entrata Ok Vediamo di girarlo un po' Questo Ok Questo è un mini Molto bene Ok Perfetto Ok Le pistole sono molto efficaci Contro I nemici volanti Quindi Ce la caviamo abbastanza bene Ok Quindi Niente Tesori Oh Come 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 Soprattutto di Soprattutto di Vinci senza Subire danni Eh Se fosse solo me Allora ok Ma I miei compagni Subiranno dei danni Sicuro Sfida Vinci Ok Allora bastava Che non li subisci Perciò Moneta del cacciatore Perfetto Attenzione Ok Perfetto Molto bene Ok Direi che più o meno L'abbiamo girato tutto Adesso Perciò L'unica cosa Che c'era qui Era quel Mimic là E nient'altro Proprio Ah cavolo A pistola Scarico Perfetto 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 Questa visione qua Non la facciamo Come la vogliono loro Arrivo Perfetto Oh guarda Abbiamo rischiato la vita Ma abbiamo trovato Un paio di forzieri La teia di Iago Iago a benedetta per due Va bene Ok Mettiamo a posto Un po' I nostri compagni Ok Oh guarda Pensavo che avremmo venire Perfetto Un'altra moneta del cacciatore E via che andiamo Oh, vabbè Come dovremmo affrontare con questo? Pugnare come città Perfetto Perfetto Chi avrebbe venuto qui? Perfetto 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 Oh Ok Uno Ok A poco E anche questa metà L'abbiamo fatta Ora possiamo avanzare Nell'ultima parte dell'incrocio che ci manca ovvero quella per andare avanti Quindi Questa villaggio Burkakwa Vediamo cosa dice il cartello Villaggio Burkakwa Alla fonte ci siamo già stati quindi Ok Perfetto Perfetto Ci troviamo? Vabbè Liscio di brutto Ok Ramo di Miriad Ramo di Miriad Prima di procedere Diamo un'occhiata all'Eureka Prima di tutto Jaster Diamante Ok Vediamo se ha bisogno di altro Non mi sembra Ok Ok Poi Lei Il cristallo di neve E Olè Perfetto Con la campanellina abbiamo sbloccato note immacolate E poi abbiamo già un paio di oggetti da dargli Ah già L'ultima cosa che abbiamo trovato Il ramo Di Non so chi Forza antifulmine livello 1 Ok E qua abbiamo la bracciale d'argento Ok E lei è a posto Zengra L'altro diamante Il Grog Perfetto Qui Ok Ok Tutto a posto Ok Zengra è a posto Potenziamo Steve Che Oraccio Non è messo benissimo Come abilità Non l'ho sbloccato ancora niente Ok Ok E adesso siamo tutti a posto Bene Anche questo episodio ormai è giunto al termine Spero di non avervi annoiato troppo E ci vediamo dopo questa battaglia per il prossimo episodio Questa è Questa è veramente Do you really think those Burkakwans will let us in? Here they come! Do you think I'm gonna go easy? Don't ever try to show off in front of me, you damn beast. Fuoco Eterno. Ok, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!